...allora quei pacotti che vi hanno dato lì vicino alla prologo da dentro... Ah, sono cose belle, sono cose veritiere. Ah, meravigliose. Signora, buonasera. E adesso qua che state facendo? Aspettate, la crepe. Ah, la crepe, che fa parte del gioco. Lo zucchero filato, un altro banchetto dobbiamo fare un'altra fila. Gianmi, però devo dirti la verità, sei più bello d'estate. Ma tutto un capputtato mi pare un saccicciotto. Auguri, buon Natale. Grazie.